Ben ritrovati con l'informazione, apriamo subito il nostro telegiornale con un giallo accaduto ad est in queste ore in provincia di Padova dove il corpo senza vita di un'anziana è stato scoperto in via Pilastro all'interno dell'abitazione in cui la donna viveva insieme ad una sorella. Il rivenimento è stato fatto alle 9 di questa mattina, la vittima si chiamava Liliana Armellini di 73 anni. Il cadavere della donna è stato trovato riverso sul pavimento del corridoio a pancia in giù fuori dalla bocca un fiotto di sangue, le caviglie legate all'indietro con del nastro isolante. A dare l'allarme è stata la badante italiana che da un paio di mesi si occupa delle due anziane sorelle, entrambi nubili. La donna la sera precedente aveva lasciato l'abitazione delle due sorelle verso le 20, nulla che potesse far presagire quanto sarebbe invece potuto accadere a poche ore. Stamane infatti nessuno ha aperto alla badante nonostante i ripetuti tentativi della donna che non ha potuto far altro che contattare i vigili del fuoco e quindi sono stati poi i stessi pompieri dopo aver aperto la porta di casa a scoprire il cadavere disteso nel corridoio al pian terreno e quindi a chiamare i carabinieri. E nuova strage di animali questa notte al parco SOS Natura di Spinea dopo l'incursione avvenuta sabato notte, lo ricordiamo, questa notte in via Unità 7 i teppisti sono tornati a finire il macabro lavoro. Questa è mafia, urla il responsabile del parco Natura Enrico Piva che invita su Facebook tutto il popolo degli animalisti ad andare a trovarlo al parco per fermare questa gente. Vandali, teppisti, balordi o anche addirittura peggio sattanisti. I carabinieri che indagano sull'episodio dopo il sopralluogo iniziale non escludono nessuna pista. Nemici non ne ho, spiega Piva e non riesco a capire a chi possiamo nel caso dar fastidio. Siamo lontani da tutto. Gli animali abbandonati o feriti che raccolgo in tutto il Veneto sono custoditi e accuditi. Ci siamo sempre autofinanziati senza mai chiedere sovvenzioni a chi che sia. Non solo vandali, vigliacchi, ma criminali da perseguire a tutto tondo e le forze dell'ordine ci auguriamo si daranno da fare. Non ci sono parole se non la condanna senza appello per una barbarie che non può trovare alcuna giustificazione se non nelle menti malate o vuote dei responsabili che hanno perpetrato questo doppio accanimento nei confronti di animali, animaletti inermi. Veneto, una regione davvero strana, a forte infiltrazione camorristica pure che nel 2015 ha visto raddoppiare il numero dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. I numeri e le mappe aggiornate sono contenute nello studio le mafie liquide in Veneto, forme e metamorfosi della criminalità organizzata nell'economia regionale. Ebbene è stato realizzato da Union Camere Veneto e da Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie. La confisca dei beni in mano alla criminalità organizzata ha registrato un considerevole balzo in avanti. Dagli 88 beni censiti in Veneto nel 2013 si è passati ai 186 nel 2015 con un incremento di 95%. L'incidenza percentuale sul totale dei beni confiscati in Italia rimane evidentemente molto bassa, meno dell'1%. Prendendo in considerazione la distribuzione della presenza mafiosa per settori, il comparto più colpito è quello dell'edilizia che pare sempre piacere molto alle mafie. In termini quantitativi Venezia e la provincia del Veneto che è al 31 dicembre 2015 ha registrato il maggior numero di beni confiscati, si parla di ben 60, seguita da Verona 54 e poi da Padova a quota 36. Torniamo alla cronaca, posti di blocco della polizia stradale durante la notte ad Abano Terme a partire dall'una circa nel mirino automobilisti per lo più provenienti da pub e ristoranti del centro cittadino. Il maggior numero dei positivi è stato rilevato tra le 3 e le 5 di questa mattina. Sono 18 i conducenti, 16 uomini e 2 donne, risultati positivi agli accertamenti e denunciati con il ritiro della patente. Di questi due uomini sono stati denunciati perché risultati positivi alle sostanze stupefacenti. Due veicoli sequestrati ai fini di confisca. E ancora la cronaca, colpo dei ladri di una ditta, la CGS di Via Canada a Padova dove i predoni sono entrati in azione domenica pomeriggio e hanno portato via un macchinario del valore di 30 mila euro. I malviventi dopo essere riusciti a girare la recinzione sono riusciti a entrare all'interno dell'azienda specializzata in forniture e arredamenti per gelatterie e pesticerie prendendo di mira il pezzo di valore appunto di migliaia di euro. Una volta caricato sul mezzo sono poi fuggiti facendo perdere le loro tracce sul caso. Ora sta indagando la polizia. E vittoria per 600 medici e padovani, informazione specialistica nel periodo tra il 1994 e il 2006. 28 milioni di euro già corrisposti a seguito della sentenza del Tribunale di Padova resteranno quindi nelle loro tasche. Così ha disposto la Corte dell'Appello di Venezia. Il network che li rappresenta rappresenta oltre 7 mila medici in tutta Italia. Le azioni collettive hanno portato all'ottenimento sinora di decine di sentenze positive davanti ai tribunali sparsi nella penisola oltre che a quello di Padova e di Venezia. Quella di Venezia è l'ennesima Corte dell'Appello che riconosce il diritto all'adeguamento del trattamento economico dei medici che non hanno percepito quanto dovuto nel periodo della loro specializzazione. Tale orientamento trova fondamento nelle più recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione. Alcuni giudici di secondo grado hanno riconosciuto perfino il doppio risarcimento sia per la violazione del principio comunitario dell'adeguata remunerazione sia per il riadeguamento del trattamento economico rimasto inattuato. Aveva presentato all'azienda per cui lavorava un certificato di malattia ma il direttore delle risorse umane lo ha pizzicato al bar di famiglia a preparare caffè e tramezzini. A processo è finito così un operaio di 41 anni della Arneg di Campo San Martino e i fatti risalirebbero al settembre del 2011 quando il dipendente si sarebbe preso alcuni giorni da lavoro per assistere il fratello rimasto vittima in un incidente stradale e poi altri per malattia dal 5 al 9. Malato però non lo era sembrato affatto o almeno così secondo i colleghi che avrebbero denunciato all'azienda di averlo visto lavorare nel bar di famiglia. L'uomo ora dovrà rispondere di indebita percezione di erogazione ai danni di enti pubblici, in questo caso dell'Inps. La prossima udienza davanti al Tribunale collegiale è fissata per il 30 maggio prossimo. L'azienda non si è costituita a parte civile in quanto il dipendente infatti si sarebbe dimesso in maniera volontaria dopo essere stato appunto smascherato. 1.430.000 euro è la cifra che l'amministrazione comunale conta di incassare per violazioni al codice della strada del 2016. Stiamo parlando dell'amministrazione comunale di Sant'Angelo di Piove. Infatti i soldi che per la quasi totalità arrivano dalle tantissime sanzioni elevate dell'autovelox installato lungo la strada dei Vivai. La giunta comunale per la prima volta ha rivisto al ribasso, anche se di poco, appena 52.000 euro in meno. Le previsioni d'entrata, che restano comunque cifre a 6-0, erano 1.346.000 nel 2014, 1.100.000 euro nel 2015, cifra salita ad 1.482.000 a fine dell'anno perché gli incassi registrati nel mese di ottobre superavano di oltre 235.000 euro le previsioni di marzo. Insomma è pronto anche la previsione a 1.430.000 euro per il 2016. Nel bilancio di previsione è stata definita anche la destinazione degli incassi delle multe per Sant'Angelo di Piove. Nulla invece andrà in tasca all'ANAS in quanto concessionaria e non proprietaria del tratto di strada in cui sono state accertate le violazioni. Il governo della innovazione farmaceutica, modelli di gestione sostenibile dei farmaci e oncologici innovativi ad alto costo, si è ridotta l'incidenza di alcune neoplasie che precedentemente dominavano il quadro epidemiologico, globalmente la mortalità del tumore specifica si è ridotta sotto al 50% con particolare miglioramento delle neoplasie del colon retto e della mammella, soprattutto per le donne, grazie ai progressi delle terapie mediche. Tra le cure innovative contro il cancro spunta la quarta arma, cioè la immunoterapia oncologica. L'immunoterapia sfrutta la capacità immunitaria del nostro organismo che se propriamente stimolata e indirizzata è in grado di distruggere in maniera selettiva le cellule tumorali senza recare danno alle cellule sane. In ambito regionale i pazienti che hanno avuto una neoplasia sono circa il 5% della popolazione veneta. Ogni anno ci sono più di 30 mila nuovi casi oncologici e per affrontare in maniera adeguata tale problematica risulta necessario quindi realizzare sinergie tra le componenti che partecipano alla gestione di processi assistenziali notevolmente complessi sia per la natura dei problemi trattati sia per la loro intensità e anche per la durata. In tale ottica la rete oncologica rappresenta quella che è l'infrastruttura organizzativa fondamentale, quale elemento di collegamento e di integrazione di tutti gli specialisti. Parliamo adesso di arte. Un'attesa senza precedenti circonda quest'anno il grandioso concerto inaugurale del Veneto Festival 2016 anche il 46esimo festival internazionale Giuseppe Tartini che è dedicato alla memoria di Angelo Ferro e realizzato in collaborazione con il comune di Padova e la fondazione Anton Veneta si annuncia per giovedì 26 maggio alle 20.45 a Padova presso la chiesa degli Eremitani, sede tradizionale dei più spettacolari appuntamenti del Veneto Festival. Al centro della serata il massimo capolavoro sacro di Amadeus Mozart ed il suo autentico testamento spirituale, il Requiem in Re minore K626. Da qui esecuzione si andrà a pregiare della partecipazione di un cast di solisti straordinari che la direzione artistica di Veneto Festival ha appositamente invitato per la memorabile serata. E quattro appuntamenti sono fissati dal 26 maggio 2016 con lance giovani dal titolo Ciclo del Bello, la Villa Veneta quando la cultura incontrava il bel costruire e oggi puntini puntini puntini. L'appuntamento si tiene a Villa Contarini in piazzola sul Brenta a Padova lo ricordiamo dal 25 maggio. Bene, è tutto per questa nostra edizione, lasciamo subito la parola agli altri colleghi delle altre redazioni.